Quest'anno mi occuperò del quartetto classico, nel jazz di solito tende a essere sassofono più sezione ritmica, cioè sassofono piano basso batteria. Ora questo è un quartetto molto usuale, quindi il lavoro di quest'anno è l'opposto in un certo modo di quello che ho fatto l'altro anno. L'altro anno mi sono dedicato ai tri, diciamo, atipici, tri particolari, inusuali. Quest'anno invece vado su una formazione molto usata nel jazz, da quando Charlie Parker ha cominciato a usarla in maniera massiccia negli anni 40-50, è diventata una formazione che anche Charlie Rollins ha adottato e molti altri col treno. Allora, quest'anno io mi dedico alla mia versione rispetto a questo quartetto, cioè un quartetto con sassofono più forte e basso batteria. La differenza rispetto all'approccio usuale, che è quello di uno strumento che sta nel front line e la sezione ritmica sta dietro e accompagna, è più di un interplay più intenso fra tutti e particolarmente fra il pianista e il sassofonista. Specialmente se il sassofonista è un sassofonista, diciamo, che suona il sax alto, il soprano, ancora meglio. Tenore si può anche fare, ma è più difficile per il tenore, è uno strumento molto importante, quindi in certa maniera è anche logico che stia davanti in certe situazioni. Però ci sono terroristi capaci con le dinamiche di poter venire anche a un dialogo un po' più forte, usando dinamiche, diciamo, adatte. Questo interplay si svolge soprattutto in questo modo, quindi praticamente l'asse è sassofono, pianoforte, quindi una sorta di contrapunto, di continuo interplay tra i due, e la sezione ritmica che è molto libera, però allo stesso tempo è un'altra sezione in qualche modo. Poi però ci sono tutti gli incroci in mezzo, tutte le varie possibilità in mezzo, di combinazione con il basso e il sassofono, piuttosto che il batteria, il pianoforte, il vassoio, e cose di questo genere qua. E poi metterò molto l'accento sull'uso, per esempio, delle timbriche e delle effettistiche in funzione di ampliare il più possibile il raggio d'azione timbrico degli strumenti in un piccolo gruppo, che chiaramente è carente di alcuni suoni, per forza di cose, perché mancano, una tromba non c'è, un violino non c'è, una voce manca, insomma è qualcosa di questo genere. C'è solo sassofono, c'è solo sassofono. Ma sassofono può avere una voce che cambia in continuazione e quindi può anche adattarsi a creare delle situazioni proprio timbriche, interessanti per aiutare gli altri. Il pianista può anche lui, a sua volta, con tocco, cambiare molto suono, se vuole, e anche ruolo in varie situazioni. Il basso può usare anche l'arco, sia per effettistica, sia per situazioni in questione, diciamo, di suono più normale. Il batterista deve avere la possibilità di poter usare molti suoni differenti. Questo è perché, in generale, la mia visione del piccolo gruppo è comunque, che sia un gruppo inusuale, un gruppo usuale, comunque, che al piccolo gruppo manca qualcosa della timbriche. Bisogna supplire con, diciamo, il trasformismo degli strumenti che si compongono in questo piccolo gruppo, che riescono ad ottenere armonici particolari, per cui quello che manca lo tengono con l'effettistica. Grazie. Grazie a tutti.